Un caro saluto e soprattutto auguri di buona Pasqua a tutti i soci del Rotary Club Galvani ai vostri cari, alle vostre famiglie più in generale a tutte le persone cui volete bene purtroppo vi formulo gli auguri di buona Pasqua a tutti voi in un momento molto particolare nessuno di noi credo avrebbe mai immaginato né voluto di vivere una Pasqua in queste condizioni ma questo è quello che ci è dato da parte nostra, delle istituzioni della Regione Emilia Romagna stiamo cercando di arginare il meglio possibile questa drammatica pandemia globale che sta mettendo a dura prova quasi tutti i Paesi del mondo e in particolare anche il nostro Paese e la nostra Regione che è la seconda come numero di contagi e anche di decessi mi permetto però di dire che grazie a uno straordinario servizio sanitario regionale dovuto a decine di migliaia di meravigliosi medici, infermieri, operatori sanitari stiamo reggendo e cercando di fare il meglio possibile sono convinto che supereremo anche questa prova questa Regione ha avuto più volte nel corso della sua storia la necessità di superare vere e proprie tragedie ce l'hanno sempre fatta coloro che ci hanno preceduto vedrete che ce la faremo anche noi auguri di buona Pasqua a tutti grazie grazie grazie